Ciao ragazzi, oggi vediamo un video bellissimo, super facile e veloce, ma di una comodità incredibile ovvero SSHFS. Se vi ricordate un po' di tempo fa avevo fatto un video in cui spiegavo come mandare e ricevere file da e verso un qualsiasi host SSH, semplicemente senza configurare servizi aggiuntivi, FTP, Samba, niente. Beh, qualcuno ha portato avanti già da un po' di anni questo concetto, l'ha steso un pochino, per renderlo un vero e proprio file system virtuale, un network file system diciamo, chiamiamolo un po' così. Ovvero possiamo montare una cartella di un certo utente, o in realtà quello che specifichiamo noi, come se fosse una cartella di rete tunnellando il traffico in SSH. Molto semplice, più semplice di quello che sembra. Ovvero, come funziona? SSHFS, la sintassi, vabbè il comando ben installato ma è un attimo, è nei repository di tutte le distribuzioni, utente, chioccio la host come qualsiasi connessione SSH. E poi in questo caso, un po' come SCP, specifichiamo una cartella, no? Una cartella che si vuole caricare. Con i due punti si prende la home folder dell'utente, quindi slash home slash p, ma posso specificare una cartella diversa, sempre a patto che quell'utente poi in realtà abbia l'accesso almeno in lettura a quella cartella. Adesso facciamo che va bene così. Devo specificare il mount point, cioè il punto di mount, cioè dove voglio montare quella cartella. Ho creato una cartella locale, l'ho chiamata cartella, wow che fantasia, e vedete che c'è l'autenticazione SSH. Sì, ok, la prima volta che ti colleghi, certo, mettiamo la password e voilà, non dà errori. Quindi adesso se vado dentro la cartella, cartella, MP Radio Master, sì perché questa è su Raspberry. CD cartella, touch, ciao, posso touchare i file, posso fare quello che voglio. Mi collego su quest'altra scheda qua, SSH. P. 192.168.1.79 e vediamo in diretta come, che davvero è quello che sta succedendo. Carica l'utente. Adesso tipo creo ciaoone, touch, ciaoone. E ok, vediamo anche da questa parte che dovrebbe comparire ciaoone in realtà. Facciamo un sync, ok, magari era una scrittura che ancora non è avvenuta. Dovrebbe bastare di qua, ok. Vedete perfettamente. Sì, all'inizio non si vedeva perché era bafferata la cosa, non era stato veramente scritto sul disco ancora. Quindi in realtà è molto figo. In realtà qui ci sono tante cose perché, vabbè, adesso lo sto facendo da, così, da riga di comando ma si può fare con un ambiente grafico, proprio quella la comodità, no? Da un qualsiasi file manager grafico posso gestire i file come mi pare a me. Nuova cartella, nuovo documento, ciao, ciao, ciao. Stessa cosa. Se mi collego in SSH sull'host dovrei vedere, ecco qua la cartella che è stata creata. E niente, questo è quanto ragazzi. Fondamentalmente in questo modo potete, a seconda dei privilegi che ha l'utente, esplorare ma anche creare e fare tutte le cose che potete all'interno di questa cartella. È una comodità pazzesca. Spesso si utilizza anche per i progetti, infatti, molto comodo, proprio per questa flessibilità. Ragazzi, è una figata. Check it out. Controllatelo. Dateci un'occhiata. Come dire. Spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima.